Bene, 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 buonasera, grazie, è sempre bello essere qui a Milano, città di design, città di moda, città di gnie gnie gnie, e quindi, eh sì, perché in realtà qua a Milano ho visto, ci sono tantissimi cani, città di cani, Milano, ci sono più cani che bambini, ci sono cani nei passeggini, cani col botox, cani che vanno in giro nelle massaierie, cani nelle acciaierie, cani ovunque, gente che lavora come cani per mantenere i cani, ma questo è perché Milano è una città che tiene all'ambiente, ha investito tanto sulla transizione ecologica dal diesel all'elettrico, dal bambino al cane, e di conseguenza, perché sì, perché i bambini di oggigiorno nascono con il senso di colpa, perché sostanzialmente sono responsabile per la sovrappopolazione, sono responsabile per il cambiamento climatico, nascono sporchi di debito pubblico, e di conseguenza bisogna sostituirli, il cane è un'opzione molto più pratica e comoda, sono cani che sostanzialmente durano dai 9 ai 12 anni, hanno un'autonomia così, che sono anche gli anni più belli sinceramente, e niente, quindi sono dei cani che puoi comprare anche sterilizzati, e quindi c'è la serata per te, capito, con Netflix in chill, bene, bene, Milano, grande Milano, un bel applauso per Milano, bel applauso per Milano, grande Milano! Bene, io invece sono figlio unico, scelta mia, per me essere nel pancione di mia madre era la mia normalità, voi volevate tornare nel 2019, quando si stava bene, io invece vorrei tornare nel pancione di mia madre, quando era tutto pagato, era pranzi, cene, il bere, le sigarette, i fantastici anni 80, io sono di Lecco, conoscete, sapete dove è Lecco, sì, Lecco vicino a Pescarenico, Lecco è una città del futuro, i cinema e i teatri erano già chiusi prima del lockdown, no in realtà se andate a Lecco i teatri li hanno messi a rogo con le streghe, che sono i nomi che noi diamo alle donne vegane che amano l'astrologia. Lecco ha tantissimi problemi, tante famiglie non possono permettersi una terza casa, giovani senza vestiti per i loro cani, i treni a Lecco, i treni sono sempre in orario, ma la gente è in ritardo e quindi questo crea un effetto a catena per la quale i treni devono aspettare le persone e questo ha dato vita alla legge Fornero. Io invece, io no, non vivo più a Lecco, io sono andato all'estero, vivo all'estero adesso, sono scappato di casa, ma mia mamma è la tipica mamma italiana, quindi è venuta con me. All'estero, no, all'estero no, perché io ho sempre avuto, sono andato in Inghilterra, ho sempre avuto la passione per la lingua inglese, la lingua di Shakespeare, Spice Girls, di Molière se lo si traduce dal francese, perché non ho proprio studiato l'inglese alle superiori, ho studiato il greco antico e il latino nel caso in cui cercassi un lavoro nel passato e quindi sono andato in Inghilterra, sono andato in Inghilterra e ho stato lì cinque anni, poi me ne sono dovuto andare, sono andato in Germania per una donna, stavo cercando di seminarla e ormai vivo all'estero da quasi trent'anni, per l'esattezza quindici e l'estero è incredibile perché ti inquadrano subito all'estero, ti inquadrano subito, ti fanno ma scusi ma lei è italiano? Sì, come ha fatto a capirlo? Questo è un posto di blocco, abbiamo i suoi documenti. E niente, quindi sono andato a Berlino, grazie, sono andato a Berlino, Berlino è una città di larghe vedute perché è stata bombardata e quindi la gente ha queste larghissime vedute, è una città molto multiculturale, ci sono tantissimi tipi di persone di razza bianca. Berlino si dice, Berlino è dieci anni più avanti, ma rispetto a cosa? Devi farti questa domanda, rispetto a cosa? Ad esempio considera Roma, Roma città eterna, tu aggiungi dieci anni all'eternità e ho detto tutto. Quindi Berlino, io sono stato in giro, sono anche stato ad Auschwitz e Auschwitz è incredibile perché appena l'ho vista, appena l'ho vista Auschwitz mi ha ricordato Napoli perché Goethe ha detto vedi Napoli poi muori e lì siamo arrivati lì verso Auschwitz e niente, c'erano le persone che hanno fatto, ero con dei napoletani, ero con dei napoletani. Comunque i tedeschi, i tedeschi sì, i tedeschi mi dicono sempre, noi amiamo l'Italia, che è una cosa che mi sorprende sinceramente perché i tedeschi notoriamente non possono amare, in realtà secondo me è quello che credono veramente, noi la vogliamo, noi vogliamo l'Italia. Quindi io non voglio essere la persona che sputa nel piatto in cui ha mangiato, ovviamente, anche se sinceramente se voi sputate nel piatto tedesco lo migliorate.